Velazione di Gesù a Maria Giuseppina Norcia Lo Spirito Santo Scrivi, figlia mia, lo Spirito Santo è lo Spirito d'amore, è fuoco illuminante, è fuoco che guida le anime e li aiuta nell'ascesa verso il cielo. Lo Spirito Santo è la santità stessa personificata, perciò santifica quanti sono degni dei suoi doni. Lo Spirito Santo è lo Spirito stesso del Padre, del Figlio e dello Sposo della Madre Santissima. Questo è il tempo di Maria, mia e vostra madre, ma è anche il tempo dello Spirito Santo, che sparge i suoi doni generosamente su quanti lo invocano con sincerità ed amore. Chi possiede lo Spirito Santo non può temere alcun male dal maligno, tranne le prove necessarie ad accrescere la santificazione. Lo Spirito di Dio dimora nei cuori puri, ma anche in quelli che intendono purificarsi, per diventare sempre più degni dell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo stesso e di Maria Santissima. La Cappellina di Gallinaro è piena di Spirito Santo e chi vi entra assorbe amore in proporzione alle condizioni del proprio spirito e alle proprie capacità. Si può dire che la Cappellina è come una grande vasca, in cui si tuffano quanti vi entrano con umiltà e fede, ne escono ristorati e saturi d'amore. In verità vi dico che se volete trasformarvi da bestie in uomini divinizzati è necessario che con fede vi accostiate alla mia seconda grotta, perché non ve ne sarà un'altra mai più. Siamo alla fine dei tempi e lì voglio che si radunino le mie pecore. E giorno verrà che alcune saranno sempre lì a pregare e piangere per i fratelli. Saranno le più sante, le più pure, le più forti, desiderose solo di salvare a costo di qualunque sacrificio. Gesù Per intercessione di Maria, Dio Padre Onnipotente, benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre e di Figlio e di Spirito Santo. Santo Spirito Spirito Divino Spirito Divino Inonda l'anima mia Di luce Inonda l'anima mia Di luce e di gioia Inonda l'anima mia